buongiorno nell'ascoltare oggi il Vangelo di Matteo il capitolo 13 versetti dal 10 al 17 sentiamo risuonare una domanda che risulta molto interessante sono i discepoli che chiedono a Gesù ma perché parli loro in parabole cioè perché parli alla folla che ascolta in parabole e la fanno questa domanda perché come Gesù conferma nella risposta sono consapevoli che le parabole non sono così semplici o meglio così facili da capire abbiamo noi a volte l'illusione di pensare che Gesù nel parlare in parabole cioè utilizzando immagini e metafore che partono dalla vita quotidiana dalla vita di allora del lavoro del campo ecco in questo modo Gesù voglia rendere facile il suo insegnamento cioè comprensibile a tutti che tutti possano capire quello che lui sta dicendo come se le cose di Dio fossero cose complicate che devono essere rese accessibili perché altrimenti non si possono capire Gesù come ci dice Matteo scardina questa visione perché le parabole dice sono raccontate a loro proprio perché non capiscano proprio perché non si illudano di capire potremmo dire meglio così nel senso che il mistero del regno di Dio non è cosa da capire con ragionamenti da capire facilitando le opinioni i pensieri i collegamenti mentali insomma Gesù vuole scardinare l'illusione che noi possiamo possedere le cose di Dio e le cose dal regno di Dio con la nostra testa con il nostro cervello che cede facilmente alla presunzione di avere tutto sotto il proprio potere le parabole sono piuttosto un modo per sollecitare a lasciarsi penetrare dal mistero del regno di Dio che è un mistero che parte dal cuore e con il cuore luogo della sapienza non soltanto degli affetti siamo invitati a capire per questo Gesù dice che se siamo tutti concentrati nella testa i nostri occhi e le nostre orecchie si chiudono alla comprensione del regno e quindi delle parabole se invece apriamo gli occhi al cuore lasciarsi stupire ci abbandoniamo a qualcosa che ci supera ma che ci viene incontro ci lasciamo sorprendere dalla vita che poi luogo dove il regno si rivela ecco che occhi e orecchie si spalancano e il cuore batte forte non si tratta di rendere più facile ma di semplificare sì perché la complessità della vita chiede che ci sia un accesso in profondità dove più semplice ed essenziale il tutto il cuore si mette in sintonia con il cuore di Dio che batte nell'intimo dell'esistenza del creato della vita di ciascuno soprattutto nell'intimo di ogni persona lasciamoci stupire dalle parabole questa semplicità renderà accessibile anche la strada della gioia buona giornata